A distanza di 40 anni, il violento terremoto che colpì l'Irpina rimane una delle ferite più profonde dell'intera comunità nazionale. Alle vittime e feriti si aggiunse il gramma di oltre 300.000 sfollati, le cui sofferenze e disagi si sono protratti nel tempo. È infatti impossibile negare l'esasperante lentezza che ha accompagnato il processo di ricostruzione e che rappresenta ancora oggi una macchia difficile da cancellare. E' anche per non ripetere questi errori che il Governo ha profuso il massimo impegno nella ricostruzione dei territori investiti dai terremoti che negli ultimi anni hanno colpito varie zone dell'Italia. Insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio abbiamo istituito un tavolo permanente a Palazzo Chigi con tutti i commissari e le strutture in prima linea nel lavoro di ricostruzione. Abbiamo già avviato un lavoro di coordinamento con l'obiettivo di uniformare le procedure che accompagnano i processi di ricostruzione. Si tratta di una delle eredità più importanti che questo Governo vuole lasciare al futuro del Paese. Tra gli obiettivi c'è quello di realizzare un sistema delle ricostruzioni sulla scia della struttura pensata e realizzata al compianto Giuseppe Zamberletti che in occasione del terremoto in Irpina guidò con silenzioso eroismo la macchina dei soccorsi. Quella fu la premessa di una moderna struttura di protezione civile di cui dispone oggi il Paese, in cui Stato e denti locali sono chiamati a fare sistema. Come è noto in Irpina, al disastro naturale si aggiunse l'ulteriore danno sociale che toccò alle comunità sopravvissute, con episodi anche di immigrazione che finirono per distanguare quelle terre. Eppure in occasione del quarantennale di quella tragedia ritengo sia opportuno ricordare lo sforzo di tutti coloro che accorsero da ogni parte d'Italia, mossi da uno straordinario spirito di solidarietà per prestare i primi soccorsi e affiancare lo sforzo dello Stato. Perché un impulso prezioso per il cammino di rinascita arrivò proprio grazie alla generosità degli italiani e dei tanti Paesi esteri, dall'impegno costante dei sindaci, degli amministratori locali, dall'intervento delle Forze Armate, della Chiesa, del volontariato. Questo dimostra come le capacità del nostro Paese di reagire alle calamità naturali abbiano sempre dato la misura della coesione nazionale, del riconoscersi in un destino comune. Ed è proprio dalle comunità e dalle famiglie colpite da quel sisma che abbiamo appreso la lezione più grande, ovvero che l'Italia sa rialzarsi e ripartire. Ecco allora che l'esempio che arriva dal passato deve incoraggiarci ancora di più nell'affrontare il nostro presente, segnato dalla lotta a questa terribile pandemia. Ci ricorda l'importanza di abolire le divisioni, superare le fragilità, trovare sempre più numerose forme di collaborazione e di confronto per sconfiggere questo virus. Nel 1980 si è trattato di ricostruire un intero territorio, di ridare fiducia alla comunità. Oggi invece dobbiamo ricostruire la speranza. Sono sicuro che anche questa volta uniti ce la faremo.